Adis Lagumcia, quando giochi contro Modena, anche in amichevole, dai sempre il meglio, miglior realizzatore della Lube questa sera, una bellissima partita. Sì, sono molto contento che abbiamo giocato bene, perché manca una settimana prima che si inizia il campionato e per noi questa sfida era molto importante per vedere come siamo preparati per iniziare. Tutto bene, ci sono poche cose per sistemare, come abbiamo visto in terzo set, se sistiamo queste cose possiamo fare un grande campionato quest'anno. Un palazzetto sold out, avete sentito anche il calore dei tifosi? Sì, era pieno, era sempre bello, i nostri Lube nel cuore sono venuti in tanti numeri, sempre bello vedere e aspettiamo anche la sfida contro Padova.